Arriva la proroga delle concessioni balneari in Italia fino a settembre 2027, con le gare che devono essere avviate entro giugno dello stesso anno. Lo prevede il decreto varato dal governo che contiene al suo interno anche gli effetti diretti sugli stabilimenti, come si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. Tra i punti principali della riforma delle concessioni balneari, si legge nella nota, si prevede la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati, l'assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, l'indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e l'equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni. Tra i criteri di valutazione delle offerte sarà considerato anche l'essere stato titolare nei 5 anni precedenti di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sì e per il proprio nucleo familiare, spiega Palazzo Chigi, che aggiunge come, in relazione ai balneatori, la collaborazione tra Roma e Bruxelles abbia consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l'opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari, permettendo di concludere un'annosa e complessa questione di particolare rilievo per la nostra nazione. Nonostante ciò, continuo ad alleggiare un nemmeno troppo velato malumore tra i sindacati regionali, come confermato anche dal presidente Sib Molise, Domenico Venditti, che si scaglia contro la gestione a suo parere confusionaria della procedura di infrazione avviata dall'Europa nei confronti dell'Italia per la mancata conformazione alla direttiva Bolkenstein in materia di ridistribuzione del demanio pubblico su tutto il territorio nazionale, con la messa al bando di nuove gare per gli stabilimenti balneari. Una legge pasticciata, difficile da comprendere anche dagli operatori del settore, dove non si riconosce l'indennizzo verso le attività commerciali esistenti da oltre un secolo. Ricordiamo che in spiaggia c'era solo la sabbia e da questa sabbia sono state create oltre 30.000 aziende a livello nazionale con un giro di affari e un giro intorno a cui gravitano intorno alle nostre attività di svariati milioni di euro. Il turismo in Italia è per oltre il 60% il turismo balneare, quindi è creato dai balneari che offrono lavoro, che offrono servizi che ci invidiano un po' in tutto il mondo. Una riforma pasticciata dopo due anni di governo Meloni che aveva sponsorizzato prima, durante e dopo la propria elezione a primo ministro l'uscita dalla Bolkista e noi chiedevamo prima e tuttora un'applicazione corretta della direttiva europea. C'era stato uno sciopero gentile, chiamato gentile neanche da noi ma dal Financial Times in quanto volevo solo richiamare l'attenzione su un problema che andava avanti da oltre 14 anni. Purtroppo non è stato così e lunedì avremo il direttivo nazionale a Roma con il quale ci riorganizzeremo per decidere le iniziative da intraprendere sia dal punto di vista legale che dal punto di vista sindacale.